Ciao amici di FoodSpring, siamo tornati e sono super contenta che questo sarà un allenamento un po' stile anni 80 perché torniamo, no ok, non torniamo soltanto all'aerobica ma torniamo alla mia tecnica di origine che l'ho fatto nell'anno 2000 che si chiama Amazons. Amazons è un movimento non solo di aerobico ma anche di danza, di quadrupedia, lavoriamo un po' come animali e lo facevo nel 2000. Molti di voi hanno detto torno a una vecchia passione, la mia vecchia passione è questa tecnica che voglio ripolverare, tirare fuori perché è un qualcosa divertente ma molto viscerale. Quando lo facciamo ho bisogno che vi mettete cioè togliete la vergogna, togliete il giudizio, togliete tutto quello che ti passa per la mente e dici oh cielo se qualcuno mi guarda e tiri fuori la grinta, la passione e l'animale in te. E tutto questo è grazie a FoodSpring. Allora oggi vi parlerò di protein ice cream però ti dico una cosa che stavo facendo in questo periodo con questo protein ice cream è coca whey. Coca whey, abbiamo coca whey con ananas e coca whey con mango ma la verità è che c'è coca whey in tantissimi gusti ma la cosa importante di coca whey in estate sono gli elettroliti del coco stesso, non solo le proteine che servono sicuramente post allenamento durante la finestra anabolica perché quando abbiamo finito il nostro allenamento è importante rinutrire il corpo, dare al corpo quello che serve come minerali, sali minerali e proteine, zuccheri però anche molto importante quando sudiamo tanto perché fa caldo e quando fa caldo perdiamo proprio i sali minerali vediamo se riesco a mettere il mio coca whey qua perché questo è il nostro bellissimo FoodSpring è gustoso, è dissettante anche, è molto liquido, non è quella panna di coco, è acqua di coco, è trasparente e ci permette di rinutrirci dopo un lungo allenamento è molto dissettante e anche diciamo poche calorie perché le calorie sono soltanto 33 calorie per 100 ml e pochissimi carboidrati, per 100 ml stiamo parlando di 2 grammi di carboidrati ma stiamo parlando di 6 grammi di proteine per un brick, la brick tiene 300 ml, 330 ml così stiamo parlando di 18 grammi di proteine in questo piccolo brick che ci aiuta sicuramente dopo allenamento. L'altra cosa che volevo dirvi è che con Protein Ice Cream non avevo le mie proteine con me in vacanza perché erano grandi per metterle nella religia e così con Protein Ice Cream lo sto utilizzando come proteine stesso quando faccio i miei frullati con frutti, lo sapete che io lo posto spesso che faccio questi frullati di frutti e verdure con latte di cocco o coco whey e le aggiungo le proteine Ice Cream perché non solo che è ricco di proteine ma è ricco di fibre e fibre in olina è un prebiotico che è molto importante per la salute delle viscere e del microbioma ricordate che in estate siamo più predisposti ad avere problemi della viscere che dei bronchi bronchi in inverno, viscere in estate e così proteggendo la microbioma faccio sì che possa passare una vacanza tranquilla senza problemi altrui o particolari diciamo così Allora partiamo con questo allenamento dedicato e grazie a Foodspring per fare un po' di brucia e grassi insieme un po' di gluteo insieme e divertendoci speriamo tanto ok? Ok quando parliamo della mia tecnica, ok c'ho un bedspin che sta sempre con me, ci siamo? Ok devi stare sulle punte, proviamo di proprio massaggiare sotto i nostri piedi perché questo ci aiuta anche a ridurre la restensione idrica, ci siamo? Braccia destra, su e vado, piccolo step touch, bello, è quasi bailato, non è soltanto un movimento meccanico è rigido, ancora, vai vai vai, 4, 3, 2, porta desu e 8, 7, 6, 5, 4, 3, the braccio vanno insieme e vai, 2, 4, 3, 2, 1, giù You make me say yeah, vai, and giù, ancora, and 3, ci siamo, and 2, ultima, 4, 3, and vai, and facciamo 1, 2, 1, 2, ok? Diventa chasse, ci siamo, marcia, marcia, chasse destra, faccio, 4, 3, 2, rimango, torno indietro, occhio, vado ad aggiungere, faccio, 1, 2, 3, giro, 5, 6, e rimango, ci siamo? 1, 2, 3, 4, giro, giro, e rimango, occhio, aggiuo, 4, 3, 2, e torno indietro, 4, 3, 2, ci siamo? Ok, piccolo salto, lo facciamo, un po' più grande, ci siamo sempre con la destra, chasse per 4, facciamo, 4, 3, 2, sulla punta, 4, 1, 2, 1, step Intorno, and 4, 3, 2, indietro, sulle punte, sulle punte, la facciamo sempre sulle destra, faccio, chasse, 2, 3, 4, and sulle punte, sulle punte, boot step, ancora, and 4, 3, sulle punte, indietro, facciamo sinistra, ci siamo, 4, chasse, and 4, 3, 2, 1, vado, vado, boot step Ancora, and 4, 3, 2, indietro, ci siamo? Ok, tutto da capo di nuovo, faccio, 1, 2, 3, in giro, sulle punte, uso quelle punte, boot step, ancora, push, 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 indietro, 4, 3, 2, chasse, 1, 2, 3, girala, vai, boot step, boot step, vado, And sulle punte, 2, ginocchio, su, andiamo, 4, 3, 2, occhio, 1, 2, 3, 4, and su, su, giù, giù, and 4, 3, 2, 1, and su, su, giù, rado, and 4, 3, 2, 1, su, su, vai, vai, 4, 3, 2, 1, su, 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 vado, vado, rimango qua, vado, ancora, 4, 3, 2, 1, vado, di nuovo, facciamo 4, in gli angoli, su, su, giù, giù, 4, 3, 2, 1, su, giù, occhio, occhio, vai, 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 giri, ci siamo, facciamo tutto da capo, chasse, and it's 4, 3, 2, gira, vado sulle punte, boot step, Vado, 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 indietro, 1, 2, 3, ginocchio, su, 4, 3, 2, chasse, 1, 2, 3, 4, in giro, vado, boost step, va, va, spingo, spingo, 4, 3, di ginocchio, su, indietro, braccia, ci siamo, tiro di su, vado, 4, 3, 2, 1, su, and vado, 4, 3, 2, 1, su, pronti per girare, vado, 4, 3, 2, 1, gira, gira, 4, 3, 2, 1, gira, gira, 1, 2, 3, step, touch, e 4, stai sulla punta, vai, così, stimola ancora di più, vediamo, sono leggermente instabile, ci siamo, ok, faccio, 1, 2, 3, e vado, vai, e sulle punte, vai, vado, 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 tutto da capo, ci siamo, chasse, 4, 1, 2, 3, vai, giro, vado, 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 e 4, 3, sulle punte, ginocchio, su, 4, 3, 2, chasse, 4, 3, 2, gira, vado, 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 vado Allarga, un, due, tre, pensa le gambe sono lunghissime, un, due, tre, vado, vado, un, due, tre, vado, step touch, uno, due, tre, quattro, un, due, tre, and step four, three, two, quattro, four, three, two, ancora questa, vai, and four, three, two, quattro, quattro, four, three, two, vai, 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 four, three, two, ci siamo, four, three, two, tutto da capo, chasse, uno, due, tre, quattro, pronti per il giro, giro, boost step, vado, 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 vinta, due, ginocchia su, vado, four, three, two, chasse, uno, due, tre, Vai, pronti per girare, girare, due, step, vado, and four, three, two, indietro, four, brazza, ci siamo, occhio, four, vado, vado, su, su, ancora, four, ancora, su, su, giù, giù, four, three, gira, 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 four, three, two, gira, gira, Allungo, and step, allunga le gambe, allunga le gambe, four, three, two, 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 allunga le gambe, step, touch, four, three, two, quattro, four, three, two, gira, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Stop All Marcha Ok Adesso andiamo a stilizzare poco a poco Sono sulle punte E una camminata con una touch finale sulla quattro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, giro 1, 2, 3 Ok, bello Ok Sono sulle punte Perché questa ci aiuta a stimolare il ritorno limpatico anticellulite Ci siamo E facciamo tracciare un hips Facciamo 1, 2, 3, di qua 1, 2, torno di là 1, 2, 3, di qua 1, 2, 3, ok 1, 2, 3, psilizzate Lavoro là 1, 2, 3 E guarda Guarda, facciamo Lento Lento Veloce Mambo Mambo chassè E mambo chassè Ok E lento Lento 4 Mambo chassè Mambo chassè E mambo chassè E facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, off Spingo 2, 3, 4, cammino su Ok Poco più veloce qua Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, off 1, 2, 3, 4, salgo E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, off 1, 2, 3, 4, salgo Da capo Fatto 1, 2, 3, 4, 6 Pronto per girare? Giro Giro Vado Vado 4, 3, 2, ginocchio indietro 4, 3, 2, braccia a palcio Vai Vai Su Cora Cora Giù Cora Cora Su Su Pronto per girare? Giù Gira 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 Lunga le gambe E vado E step Sulle punte Sulle punte Scendo Usa le gambe Attiva le gambe Meno veloce Più di potenziamento Vado 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 Ancora Step Touch in avanti E faccio 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Vado Di nuovo 4, 3, 2, 4, su 4, su Ci siamo Camino 4, 3, 2 4, 3, 2 Time 4, 3, 2 4, 3 Lento 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 Veloce Mambo Mambo Chasse Mambo Chasse Su Su 2, 2, 4 4, 3, 2 Salgo 4, 3, 2 1 4, 3 Indietro 4, 3, 2, 1 Salgo Ecco Bravi ragazzi E questo è un ritorno ai miei esercizi Diciamo ai inizi E poi ci sono molto di più Molti esercizi in quadrupedia Che possiamo andare giù A lavorare In un contesto robic Questo si chiama Amazons Per toccarvi proprio all'istinto Boom No? Divertendoci Ma prendiamo il nostro tappetino La teniamo vicino Perché voglio comunque Fare un po' di glutei Da promessa Ok Prima Andiamo A fare proprio Un knee up Lunge knee up Appoggia Appoggia il tallone giù Non so se riuscite a vedermi Ecco così Ginocchio sopra il tallone Andiamo a fare 30 Spingendo qua E 1 Ok Adesso Quando sto sollevando questa gamba Non pensare a questa gamba Pensa a questo qua Ok Spingo giù Spingo giù Spingo Verso terra Verso terra È quello che ti attiva il gluteo Ancora 10 9 8 7 Ancora 6 5 4 3 2 Ancora 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Cambiamo gamba 30 per l'altra gamba Occhio Andiamo 1 2 Spingo giù Spingo giù Spingo giù Mette le mani sotto il gluteo Per sentire che stai lavorando Ancora 20 20 19 18 17 16 15 14 Spingo giù Spingo giù Ancora 4 3 Dammi ancora 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 And stop Ok Piccolo Step touch Ok Adesso andiamo A fare i nostri Marcia 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 Jump Squat Back Marcia 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 Jump Squat Back Vado Jump Squat Back Ancora Ci siamo Jump Squat Back Ancora 8 Back Ancora 7 7 Non importa Non importa le gambe Che viene avanti Ancora 6 Ancora Indietro Ancora 5 Vado 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 Ancora 4 Vado Adesso andiamo Andiamo a fare un movimento Che si chiama calcio d'asino Ok Calcio d'asino Che è una spinta indietro Con le gambe in su Fletta i piedi Su Su Vai Tira 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 Respira 8 7 6 5 4 3 2 Ancora 8 8 7 6 5 Ancora 4 3 2 Dammi ancora 8 8 7 6 5 4 3 E cambia la gamba 4 8 Piccoli 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 Non ho ancora cominciato Ancora Facciamo 8 7 6 5 4 3 2 Ancora 3 8 Facciamo 8 7 6 5 4 3 2 Ancora 2 8 4 3 2 Ottimo 8 8 7 6 5 4 3 2 Relax Ok Giù in giro Ragazzi Eccellente E finiamo Con Un movimento Bello tranquillo Ma avrò sempre su Perché mi porto Le mie foot spring Vicino a me Perché ricordate Che questo Questo allenamento È grazie foot spring Ok Sponsored by foot spring E li adoro Perché comunque Sono prodotti Eccellenti Buoni da mangiare E ti appaga Anche il palato Ok Gamba su Occhio Su 2 3 4 5 6 7 8 Ancora 8 7 6 5 Ancora 4 3 Tanto sole Tanto sole Ancora 8 7 6 5 4 3 2 8 Ancora 8 7 6 5 4 3 2 8 Ottima 8 7 6 5 4 3 2 Cambiamo la gamba 4 4 4 4 8 Chiuderemo con un esercizio che io adoro È un calcio d'asino con salto Ma molto efficace È molto efficace Vai 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 Ancora 2 8 4 3 2 Ottimo 8 8 7 6 5 4 3 2 E relax Ok Giriamo Ultimo esercizio Siccome sto sudando Lo faccio a pavimento normale Per non scivolare con le mani Allora il movimento È il seguente Scendo giù Sollevo la gamba E faccio 1 2 E È come se la contrazione È in su Mi fa sentire Sollevamento Ancora Ancora uno Cambio la gamba Su 2 3 4 5 6 7 8 8 Ancora 2 9 10 Eccellente L'abbiamo fatto ragazzi Un allenamento Spero Divertente per voi È stato divertente per me Ringrazio sempre FoodSpring Che lavoriamo insieme da anni Prodotti eccellenti Prodotti intelligenti Che ci permettono veramente Vivere di più della nostra vita Ragazzi provateli Questi sono Pop Away Tantissimi tantissimi gusti E ricordate Se andate su FoodSpring Potete utilizzare il mio codice sconto GIL Y Che vuol dire Che potete avere Un sconto di 15% Sui prodotti Non scontabili Sono accommodabili Però comunque Potete trovare Il loro prodotto Con un bello sconto Baci dalle GIL Bella giornata a tutti Ciao